Un venerdì senza casi di coronavirus per Lecce e provincia. Dopo una settimana di nuovi contagi quotidiani, l'esito positivo dei tamponi fa segnare uno zero nel Salento. Il numero di pazienti contagiati era però salito nei giorni scorsi. Giovedì erano altri tre i test che avevano dato esito positivo all'infezione da Covid. Tra questi anche un bambino di quattro mesi del Basso Salento, sul quale ha voluto fare chiarezza il direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. Il caso del bambino di quattro mesi, dice riportato da alcuni organi di stampa, è relativo all'esito di un tampone effettuato a carico di un nucleo familiare già in isolamento domiciliare, in quanto è entrato in contatto stretto con un caso positivo Covid. Allo Stato, prosegue Montanaro, il piccolo non presenta sintomi di rilievo e i suoi genitori sono risultati negativi al test. Il nucleo familiare può contare sul supporto della ASL che segue l'evolversi della situazione, continuando il lavoro di sorveglianza sanitaria. È nato tutto insomma da un caso di contagio di un professionista medico, ormai in isolamento da diversi giorni, ma il piccolo sta bene e dopo giorni di nuovi casi il Salento fa registrare 1-0. Troppo poco per essere un segnale forse, ma è già qualcosa.